Ciao grandissimi, benvenuti in questo nuovo mini video, oggi voglio farvi vedere questo fingerlime, è un fingerlime della mia ragazza pianta che ci avrà due anni massimo, una cosa del genere, però volevo farvi notare le spine impressionanti di questo fingerlime cioè, non so se riuscite a sentire ma ci si può suonare una musica con questa roba, sono dure asserpentate come si dice in toscana, dure asserpentate e guardate ragazzi, sono praticamente impiegabili, cioè se ti prendi una spina del genere in una mano così, ti fai un male impressionante guardate che roba incredibile questo è un fingerlime, se non mi buvo per davvero, un fingerlime verde infatti guardate, qui già la pianta comincia più a diventare più piccola probabilmente questo è un succhione, anche per questo c'ha delle spine così enormi pianta molto più piccola, pianta molto più compatta e poi guardate qua, alla fine qui è riuscito a fare qualche fiore ed ha legato questi due bellissimi fingerlime ancora naturalmente non sono molto maturi però credo proprio che a breve insomma arriveranno a maturazione anche perché questo è un fingerlime verde e la buccia diciamo rimarrà in questo modo prima di cadere e quindi niente insomma ragazzi, volevo farvelo vedere perché secondo me era molto interessante poi c'era qualcuno di voi che me l'aveva chiesti questi fingerlime quindi ho preferito farvi vedere anche questa piantina qui perché secondo me era molto interessante anch'io probabilmente in futuro prenderò qualche fingerlime perché sono davvero interessanti però al momento non ho spazi sufficienti per prendere anche questa pianta qui quindi al momento l'unica cosa che vi posso far vedere è la pianta della mia ragazza ecco quindi nulla insomma ragazzi noi ci si vede ai prossimi video sempre qui su FOOSTORIES ciao ragazzi ciao ciao ciao